Preparativi Circo Massimo, 9 ottobre 2014, vediamo il palcoscenico dove parlerà Grillo il 10, 11 e 12 ottobre, ecco qui Circo Massimo, questo qui è il palcoscenico, lì sotto vediamo tutti i vari gazebi, vedete sullo schermo prove e video, audio presumo perché, e qui insomma si attendono oltre 900.000 persone Michi Ciusino, punto in